L'Abruzzo avrà una nuova acqua minerale e sarà prodotta a Sulmona grazie all'intesa sottoscritta tra la regione Abruzzo e l'amministratore delegato della società Spumador S.P.A. di Sulmona. Ad annunciarlo il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, dopo che la società Spumador si è giudicato l'avviso pubblico per l'affidamento della concessione. All'inizio di maggio, spiega il vicepresidente Lolli, il servizio valutazioni ambientali della regione ha individuato la Spumador quale vincitore dell'avviso pubblico della nuova acqua minerale. C'è da dire che la stessa società aveva avuto dalla regione Abruzzo un permesso di ricerca da effettuare in Valle Pellinia. La Spumador ha ritrovato nelle profondità dell'aria della Valle Pellinia un'acqua di ottima qualità riconosciuta dal Ministero della Salute come acqua minerale denominata acqua maia per la sua provenienza delle profondità del massiccio della maiella. La Spumador, la vecchia Recoaro, con sede a Como, fa capo a una multinazionale olandese, con sede in tutto il mondo e a Sulmona proprio uno stabilimento di bevande alcoliche. Il nuovo contratto di concessione prevede altresì la stabilizzazione degli attuali livelli occupazionali dell'azienda, con ulteriori assunzioni fino alla piena entrata in regime della produzione di acqua minerale. Per il comprensorio Pelinio, conclude Lolli, può essere considerato una buona notizia che peraltro investe una società che finora ha mostrato una chiara volontà di investire in Abruzzo e mantenere occupazione in Valle Pellinia. L'affidamento a Spumador coincide con l'applicazione per la prima volta in Regione del nuovo procedimento previsto dall'articolo 27 bis del Codice dell'Ambiente, recentemente introdotto, al quale la Regione Abruzzo sia adeguata. Tuttavia il procedimento dell'articolo 27 bis, sostituendo a ogni effetto tutti i titoli abilitativi previsti dalla precedente normativa, ha consentito di pervenire rapidamente alla sottoscrizione del contratto di concessione.